Oro in tarsi dal sapore medio orientale si alternano i colori vivaci delle opere appese alle pareti. Il premio Oscar Dante Ferretti ha disegnato così le scenografie del ristorante gourmet e condividere all'interno della nuvola il nuovo quartiere generale Lavazza a Turino. Al menù ci ha pensato una mente come Ferran Adrià, già chef e patron del Bulli, che da quasi 20 anni collabora con la multinazionale del caffè. A dare vita ai piatti invece ci sarà Federico Zanasi, un curriculum forte della collaborazione con Moreno Cedroni e un riconoscimento come miglior sous-chef nel 2011. È una grandissima responsabilità, sono molto emozionato. Questa è una giornata che aspetto da un anno e mezzo, da quando abbiamo iniziato la collaborazione. Quindi lavorare con la famiglia Lavazza è un motivo di grande orgoglio, perché loro conoscono molto bene le dinamiche dell'alta ristorazione. E Ferran in tutto questo mi ha aiutato, mi ha dato una conoscenza, mi ha fatto oltrepassare il limite. A volerlo come capitano della nave è stato proprio Ferran Adrià, che ha subito messo in chiaro, questo è il suo ristorante, non il mio. Ma dal lavoro fianco a fianco con una mente come Adrià, Zanasi ha imparato molto. L'insegnamento più grande è stato sicuramente cucinare un po' di più con la testa, un po' di meno con le mani. Per cui mi ha dato un grande approccio culturale a quello che è la cucina. Abbiamo studiato quello che era la gastronomia italiana, partendo dall'antica Roma, arrivando fino ai giorni nostri, e mi ha dato una conoscenza e una consapevolezza della cucina italiana che attualmente cercheremo di tradurre nei nostri piatti. Già nel nome scelto per questo ristorante c'è il recupero dell'antica tradizione della tavola italiana. La condivisione è radicata nel popolo italiano, quindi recuperare quello che era il tradizionale pranzo della domenica è stato fondamentale per riuscire a costruire il menù del condividere, quindi rielaborando una tradizione antica e facendo qualcosa di innovativo. E i piatti che saranno in carta sono frutto di questo studio attento della nostra cucina, talvolta mixati con le esperienze di tradizioni culinarie dei altri paesi, ma sempre mantenendo una riconoscibile matrice italiana. E vista la location del ristorante, non poteva mancare un posto d'onore per il caffè. Il caffè avrà uno spazio dedicato, quindi ci sarà una sala, condividere sarà diviso in due sale, una salata dove si cenerà e poi dopo ci si muoverà e si andrà a prendere il caffè e si gusterà ogni dessert in una sala dedicata, per cui ingrediente principe il caffè in questo spazio per far sì che l'espresso sia il culmine della serata. Condividere sarà inaugurato il prossimo 8 giugno e sarà aperto al pubblico dal martedì al sabato a cena e il sabato e la domenica a pranzo.